Il piano nazionale di governo delle liste di attesa prevede tempi massimi per eseguire le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Quando non è possibile effettuare una prestazione entro i tempi massimi stabiliti, si potrà effettuarla in regime intramurario senza costi aggiuntivi al ticket. In base all'articolo 1,282 della legge finanziaria 2006, è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni. Tutti i malati hanno dei diritti, ottenerne il rispetto è un dovere, non un beneficio. Cittadinanza attiva Active Citizenship Network ha realizzato la Carta Europea dei diritti del malato.